Segui i tuoi sogni, loro conoscono la strada. A Luciana Network Cambia Mente, più consapevoli con il network marketing, con la networker professionista, mamma di Marilu, Lucia Mezzomonaco. Ciao Lucia! Ciao Luciana! Ciao! Hello! Bonjour! Da sempre ho una passione sfrenata per la maternità e i bambini. Tu Lucia scrivi così nelle tue informazioni di LinkedIn. A partire da queste ci aiuti a conoscere meglio te e la tua storia? Io in realtà arrivo a questo percorso dopo la mia maternità. Il mio stimolo è stato proprio l'inizio della gravidanza. Ho cercato e cominciato questa gravidanza con un'idea di quello che desideravo fare, di come volevo vivere la maternità, per poi finire dal lato esattamente opposto. E rendermi conto che dovevo comunque modificare alcune cose, alcuni ritmi, alcuni sforzi fisici. Io spostavo scatoloni col pancione di libri, insomma, e quando qualcuno mi sgredava, no, no, io ce la faccio. Sì, ce la faccio, però poi dopo mi sono trovata anche in un momento in cui la signorina che adesso è di sopra, che legge i fumetti, mi ha detto basta, date una calmata mamma. Nel 2016 chiudevo il mio negozio dopo soli tre anni di attività. Scrivi tu così su LinkedIn. Ci parleresti, Lucia, del tuo negozio. Che negozio era? Come mai l'avevi aperto? Come ha influito la presenza del socio occulto? L'incontro con il network marketing? E se ci racconti anche del percorso che stai facendo ora con tua figlia, Marilu. Sono andata piano piano nella mia vita cercando cosa volevo fare da grande, prendendo nel mezzo tante informazioni e tante conoscenze.